dal numero sconosciuto un video ho detto che sono Barbie basta ehi Barbie che fa Emi oh oh ti è caduta una cosa sbadata ma ancora qua stai pensavo che era tornata Emi questa è casa mia ma non è vero ma ancora che ti trucchi dobbiamo cambiare alcune cose alcune cose non sono rosa ma dove vai? doveva essere rosa cosa? questo mobile questi vanno bene ok soltanto il vaso dovremo cambiare ok la ciotola di Kira va bene va bene perché è bianca e quell'accessorio va bene? lì abbiamo un antizzanzare è permesso a tenerlo? è nero e vabbè ma non l'ho trovato rosa senti ma io qui ho notato una cosa ma è tuo? si ho fatto un nuovo acquisto wow ma non c'è che dire di che cosa vedete anche questi cuscini di che cosa sono queste racchette ok ok basta giuro che non mi tocco più che c'è? ma io voglio Emi ah ti ho fatto un regalo aspetta a me? che bello che gentile ti ho regalato dei vestiti nuovi cos'è? è anche questo qui che cos'è? è una maglia è una maglia? questo che cos'è? un pantalone un pantalone fucsia un rosa fucsia e quando dovrei metterlo io questi? sempre come sempre? ma adesso non c'ho tempo io però di fare questi cosi lo sai? grazie per i regali perché sono sempre molto accetti facciamo che quando hai tempo di cambi non viene a dare allora Emi Barbie Barbie Emi ti sfido se vinco io torna Emi se vinci tu ma che ne so io dov'è? ma chi? Emi eh devi farla tornare ma che ne so io dov'è? tu hai visto quel video? allora ti faccio vedere come si gioca vai ok ho presa non stavamo ancora giocando la devi lanciare tu nooo va bene nooo ma tu basi sempre no come la devi? dai che ce l'avamo vai no vai vai non hai presa non hai presa non hai presa dai lanciala brigati 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 nooo mochi dai lanciate addosso al mobile dai vai dai lanciate addosso al mobile adesso come la prendo ok Barbie girl abbiamo finito di giocare a tennis penso di averti stracciata vabbè questi sono dettagli adesso fai un bel ballo per noi però vai vai vediamo un bel balletto 3 2 1 vai 1 2 1 2 3 3 4 5 3 3 4 5 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23